Andiamo! Sei una vera fan del Wings Club? Allora partecipa al concorso! Guarda attentamente gli episodi della nuova stagione tutti i giorni alle 18.45 Durante le puntate comparirà una domanda Appena la vedi rispondi su WingsClub.com Impali ogni giorno un super pasqualone e un fantastico premio finale! Una magica crociera MSC per tutta la famiglia! Cosa aspetti? Prova a vincere con Wings Club la nuova stagione tutti i giorni alle 18.45 solo su Wings Club Channel!